Siamo qui al Romics 2016 di aprile e sono in compagnia di Gianmarco che adesso sta riprendendo e abbiamo fatto un breve video del backstage del padione 8 degli youtuber che vedrete montato da Gianmarco, quindi se ha fatto una cagata è colpa sua Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi, ciao! Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo video, io sono Gianmarco Oggi siamo qui al Romics 2016 Ci troviamo nel padione 8, se non sbaglio, sì dovrebbe essere 8 Sono insieme a Mark che sta riprendendo questo fantastico video E niente, siamo qui insieme a dei youtuber molto più famosi di noi Infatti abbiamo qui vicino Dread, Omi Atoll, chi ne ha più ne metta Comunque ci sentiamo di meritarci questo posto perché in tre anni abbiamo caricato un sacco di video Insomma, niente E come vedete alle mie spalle abbiamo una marea di gente che ovviamente è qui per noi non per gli altri youtuber, lo sappiamo, no? E nulla Ragazzi, in questo video vi mostreremo un po' di sequenze che abbiamo tratto da Romics Spero vi possano piacere E niente, da Gianmarco è tutto, buona visione, bella E niente, da Gianmarco è tutto, buona visione, bella E niente, da Gianmarco è tutto, buona visione, bella E niente, da Gianmarco è tutto, buona visione e bella E niente, da Gianmarco è tutto, buona visione, bella questa 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1